è fuori discussione che non vediamo l'ora che si riprenda a giocare in modo tale che si possa parlare di partite, di situazioni, di momenti, di arrabbiature, gioie, dolori, insomma tutto quanto c'è attorno ad una partita di calcio però non si può parlare di partite fino al 3 di gennaio e allora vediamo di analizzare un pochino quello che è successo precedentemente, insomma fino all'ultima gara, no? E cosa è successo? Che mi sono imbattuto in una ricerca effettuata da tuttoyuve.com che ho trovato essere molto interessante perché porta dei dati statistici precisi, questi dati statistici precisi riguardano la fallosità, riguardano i cartellini, riguardano un po' di situazioni sulle quali mi sono soffermato un attimo a riflettere. Il dato più importante è che la Juve è stata la squadra che ha raccolto più espulsioni di tutte, 5 compresa anche quella di Pinsoglio dopo il gol di Bonucci nel derby, quello degli ultimi secondi. Pinsoglio che aveva urlato all'arbitro adesso annullaci anche questo perché era stato precedentemente annullato un gol. Espressione irriguardosa, ci sta per carità di Dio, così come ci sta l'espulsione di Quadrado, così come ci sta l'espulsione di Chiesa, come ci sta l'espulsione di Rabiome, ne esplugge un'altra però probabilmente ci sta. Quello che magari non ci sta è che abbiamo visto episodi praticamente molto simili, se non uguali, se non addirittura peggiori, che non sono stati sanzionati alla stessa maniera. Ma lo dico obiettivamente, sto facendo cronaca, mi viene in mente Deron con l'Atalanta, mi viene in mente anche un giocatore del Torino, mi viene in mente la mancata espulsione di Borca Valero, lascio stare adesso la questione rigori, falli, non falli, no. Stavo guardando appunto i Gatellini. Perché? Perché appunto c'è questo dato. Scusate, devo mettermi lo strumento di lavoro. E allora Juventus, attenzione, perché poi la cosa interessante sono il rapporto cartellini con espulsioni. Juventus, cartellini 28 in generale, ok? 5 rossi, 5 rossi. Per restare nelle posizioni alte della classifica, partiamo dalla prima in classifica, Milan 34 cartellini gialli, 0 rossi. Andiamo di seguito per la classifica, dove l'Inter? Eccola qua, 28 cartellini gialli, 1 rosso. Cioè 28 cartellini, 1 rosso. Roma 27, 1 rosso. Napoli 24, 2 rossi. Atalanta 26, 0 rossi. Sono dati di fatto, eh? Lazio 45 cartellini, Lazio 45 cartellini, 1 rosso. 45 cartellini, 1 rosso. Sono dati di fatto, sui quali adesso io non voglio aprire, accendere una polemica, ok? Però sono dati che fanno riflettere. Poi mi si dice, per carità, se uno entra col piede a martello, giustamente, quindi se la Juve ha commesso, lasciatelo stare il pistoglio, in quattro situazioni di gioco, falli che giustificassero l'espulsione, va benissimo, va benissimo. Evidentemente però, per esempio, se l'Atalanta ne ha 0, probabilmente Deron, per quell'intervento che aveva fatto in Juventus-Atalanta, doveva entrare nella casellina come 1. altre squadre potevano averne di più, c'è. Mi sembra che ci sia un po' di sperequazione, che ci sia un po' di evidente differenza, no? In questa distribuzione dei cartellini, dovuta sicuramente a giornate particolarmente negative degli arbitri, perché tutti possono sbagliare, evidentemente, nei confronti, non è che hanno sbagliato nei confronti della Juve, non è che hanno sbagliato nei confronti della Juve. Se questi cartellini c'erano e le dinamiche delle azioni li possono anche giustificare, hanno sbagliato nei confronti magari di altre squadre che mi sembravano altrettanto meritevoli di essere sanzionati. L'altro dato che emerge da tutto questo è che la Juventus è la seconda squadra meno fallosa del campionato, la seconda squadra meno fallosa del campionato dopo il Napoli. La Juventus ha commesso 158 falli dall'inizio del campionato, quindi la seconda meno fallosa. Il dato del Napoli non c'è, non abbiamo i dati degli altri, però la seconda squadra meno fallosa, che è una classifica che si può leggere sia in senso positivo che in senso negativo. In senso positivo, beh, fair play o comunque, diciamo così, un modo di giocare non portato alla fallosità. Il lato negativo qual è? Se una squadra commette pochi falli vuol dire che va poco a cercare di rubare palla, che ha poca aggressività. Potrebbe essere letta anche in questa maniera. Però è chiaro che nel momento in cui tu mi riporti 158 falli, seconda squadra meno fallosa, 28 cartellini, di questi 28 cartellini sono 5 rossi, 4 per dinamiche di gioco, e c'è un dato che comunque fa discutere, che fa pensare che la Juventus sia stata giustamente sanzionata in determinati casi, che altre squadre siano state ingiustamente non sanzionate, perché abbiamo avuto esempi e situazioni molto simili a quelli che si sono verificati nei confronti. Diciamo che, insomma, che la classe arbitrale ha sbagliato qualche volta di troppo, però si sbaglia tutti e quindi non fatemi dire che a pensare male ci si azzecca, dai su, non fatemelo dire, però diciamo che è un dato di fatto, ecco, è un dato di fatto, che poi alla Juve debbano magari, ma l'avranno anche fatto, raccomandare ai giocatori di stare un pochino più attenti, perché detto tra noi, quando riprendono domani, cioè il 28, ad allenarsi, voi sapete come funziona, l'ho già detto Pino, per un paio d'ore, se non di più, staranno a revisionare tutto il filmato della partita Juventus-Fiorentina, mettendo in luce tutti gli errori di atteggiamento, tattici, tecnici, eccetera, e a parte a quadrado verrà detto, lo dico in maniera molto edulcorata, di non comportarsi più così, perché ha messo in difficoltà, e anche qui lo dico in maniera edulcorata, ha messo in difficoltà i suoi compagni con quel comportamento dopo un quarto d'ora, venti minuti di partita, assurdo, farlo in attacco così, assurdo. Però diciamo che se si vedessero un po' dappertutto queste cose, probabilmente ne tratterebbe beneficio un po' tutto il movimento, perché dopo poi è facile scadere, no, e pensare, parlare di complotti o d'altro, no, non se ne vuole parlare in questo momento, assolutamente, assolutamente. Diciamo che la Juve è stata un po' sfortunata in questo senso, vabbè, basta, chiudiamo qua il discorso. L'altra classifica invece che deve far riflettere, secondo me molto, Andrea Pirlo, attenzione, è che la Juventus è la squadra che è più finita in fuorigioco dall'inizio del campionato, 41 volte. La seconda squadra è il Parma, il Milan è finito in fuorigioco 38 volte, altri dati non sono disponibili. 41 volte mi sembrano un po' tante, e di queste 41 Morata ne ha un po' da ascriversi a demerito, ecco, se vogliamo. Parlo di campionato, tra l'altro, perché per Morata parlano anche tre gol annullati contro il Barcellona in Champions, due dei quali sicuramente in fuorigioco, l'altro c'era stato anche un fallo di mano o comunque sottoporta, ma comunque era partito da una posizione irregolare, quindi diciamo si può annoverare anche quello tra fuorigioco. Ecco, questa è una correzione che va fatta, in questo caso non tanto dal punto di vista tattico, ho detto una cavolata, ma lavorando sui movimenti, sui movimenti dei singoli giocatori in quelle circostanze, in quelle situazioni, 41 volte sono tante per una squadra come la Juventus, che dovrebbe essere molto più esperta in certe situazioni per evitare proprio di mandare a monte un'azione che poi potrebbe portarti un certo beneficio. Io penso che comunque sono dati di cui la Juve sarà al corrente, anzi sarà stata probabilmente la prima ad essere al corrente, perché comunque esiste gente che lavora per la Juventus che si occupa solo di questo, di situazioni di campo, di situazioni statistiche da riportare poi agli allenatori perché ci possano lavorare sopra. Non so se vi ho annoiato con questo video, però mi sembrava molto interessante citare questa cosa, dire ad esempio anche che Ronaldo è stato nominato migliore giocatore del secolo, vabbè ha vinto lì il premio a Dubai, ma questa è statistica che rientra nei suoi premi e che in questo momento non ci riguarda. Anche lui è finito in fuorigioco qualche volta comunque, quindi dicevo spero di non avervi annoiato, poi vedrete un po', a me sono sembrati un po' assolutamente molto interessanti, ecco questi dati. È stato un modo così per stare ancora in compagnia vostra, far riflettere in attesa di queste benette partite che ricominceranno, quindi poi vedremo di parlare anche di tanti altri aspetti più prettamente di campo relativi alle partite stesse. Iscrivetevi al canale, sono stato anche fin troppo lungo e me ne scuso, iscrivetevi anche al canale del mio figlio Balzerini Junior e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!